del 70 e sono il doppio rifiutente boh ah boh non lo so sta ancora aspettando che il conno la prende e si iscrive so che mi stai aspettando questo ronzo di minecraft iscriviti tiro fuori la pistola Axel allora adesso devi prendere il ferro in live e minacciare ugamidi no no ho la spada no no devi minacciare ugamidi se non metti il ruolo al cieco faccio capotte no no io non ammazzo nessuno io semplicemente sfregio male rompo i reni ma infatti pure sei stupido che dici che non uccide nessuno ma certo che non devi uccidere nessuno perché lui se no fai capricci prende e ammazzo quindi devo fare tipo il bravo però ti potrei far perdonare se fai vedere la tua stupendia sedia da gaming rana ma aspettate devo un attimo però spostarmi aspetta togli la spada e fanno farmi vedere va vedere la sua stupenda sedia della francia la magica la magica francia cioè anche se dove stessi chiedendo un udino leva levati voglio vedere la rana la rana sedia vogliamo vedere la rana esci la rana esci la rana sedia la magica rana sedia la magica rana sedia ma tu nel frattempo che cosa stai vedendo sotto quella cassettiara sotto il tavolino cosa c'è una foto di robert esploso no 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 ho tipo un santino di berlusconi insieme a scerecche che limonano è un immagino il segreto mi sta immaginando la cosa nooo adesso che lo sapete se qualcuno è seditare fa fatela se qualcuno è seditare fatela per favore è tipo un bisogno fisico mi sono appena ricordato un santino di scerecche che si limona a berlusconi fatelo allora axel grande axel che lo farà per noi grande axel senti non hai programmi di editing ho soltanto paint 3d